Buongiorno da Non Solo Anima TV. Siamo qui all'hotel Michelangelo per il convegno L'Uomo, creatore della propria realtà, dove scienze e spiritualità si incontrano. Abbiamo con noi Paul ed Eleonora. Buongiorno, formatori e ricercatori nel campo della crescita personale. Iniziamo cercando di capire meglio perché alcune persone riescono a dare forma a un'idea, a dare seguito a un progetto, a fare più cose contemporaneamente, a realizzarsi, mentre altre hanno più difficoltà, sembrano prive di capacità di realizzazione personale. Come mai, secondo voi? Per prima, secondo noi, non esiste la persona priva di idee e di progetti. Ogni persona lo porta dentro di sé. E poi ovviamente è così che ogni persona ha una sua storia, ha fatto delle esperienze nella sua vita che gli permettono di essere più aperto, più sicuro di se stesso di avere più autostima per poi prenderlo in mano e realizzare le cose. Perciò per chi adesso si sente in quella situazione di non avere idee, è più di forse lavorare all'inizio sulla crescita personale. Poi c'è un altro aspetto che riguarda queste idee, come alimentare anche quest'idea e come integrare anche nuove idee continuamente. Possiamo immaginarci il nostro mondo come un mondo energetico, dove troviamo tutte le informazioni, un campo morfo genetico che lo possiamo anche chiamare. In questo campo morfico collettivo, l'inconscio collettivo, la cronica cash, prendiamo qualsiasi parola, la descrizione che vogliamo, troviamo dentro tutto quello che è. Sappiamo che in questa vita quotidiana c'è una limitazione di tempo e spazio. E lì dentro ovviamente abbiamo solo quello che adesso fa parte di questo mondo fisico. Se usciamo fuori con la nostra coscienza e ci allarghiamo per questo spazio più grande, più ampio, allora ci rendiamo conto che questo tempo e spazio non esiste, che improvvisamente abbiamo accesso a questa biblioteca universale continua. E alla fine dopo basta avere una tecnica, basta capire il principio, come posso collegarmi con questa altra dimensione per integrare quelle idee che corrispondono a me, alla mia vita, quegli progetti che veramente corrispondono a me. Perciò una delle cose importanti è di prima capire come posso accedere a questo campo, che non so se c'è il spazio anche di spiegarlo perché noi normalmente impegniamo cinque giorni durante il seminario per dare un'idea di questo, come accedere, ma comunque basta avere un modo, un processo per accedere e poi rendersi conto che ogni persona porta dentro di sé già il seme per questa sua idea. Ognuno ha una missione, una visione nella vita da realizzare. Chi lo trova, lo vediamo che subito, le persone che hanno trovato questa visione, questa idea da realizzare nella vita sono sempre contenti, sono felici, sono gioiosi, si divertono. Il lavoro di per sé come lavoro non esiste più una professione dove dedicano il loro tempo che è da dedicare perché vogliono realizzare queste cose. Perciò ogni persona, veramente ogni persona, non dipende dai studi, dalla formazione che uno ha ricevuto, ma ogni persona porta dentro di sé già il seme per questa idea. Spesso ci facciamo deviare. Oggi nella società moderna abbiamo tanti input a fuori, sono le mass media, sono la società, la famiglia, sono tanti input che riceviamo, ma anche i bambini oggi sono pieni di input e così dimenticano veramente chi sono e hanno perso il contatto con loro stessi. Ma comunque il seme comunque c'è sempre. Se dopo veramente filtro fuori, non queste visioni, queste idee fossero impostate, la bella casa, la bella macchina o forse una carriera in lavoro, ma se veramente filtro fuori cosa mi fa ridere. Alla fine il messaggio più importante è quale lavoro, quale professione mi fa ridere, se trovo quello avrò un sorriso dalla mattina alla sera. Serve anche un elemento, un processo per realizzarlo. E gli faccio parlare Eleonora. Come si realizza dopo la propria idea, la visione che uno ha trovato? Allora la cosa importante ovviamente è che quando pensiamo, quando ci immaginiamo questa visione, questo nostro compito, che stiamo veramente tanto tanto bene. Se visualizziamo questa visione così bene abbiamo questa emozione che è anche la forza che permette di realizzare questa immagine, la vita fisica. Cioè la forza più importante è proprio la sensazione, la percezione di ciò che vogliamo realizzare. Questo è la forza che fa realizzare le nostre visioni o tutto quello che dissediamo. E il problema sta che magari tante persone ormai hanno capito attraverso The Secret o tantissime altre cose, al momento è proprio The Secret, lo conoscono tutti, parlano tutti, perciò lo dico. Hanno capito che possiamo realizzare in un certo spazio anche, ci sono ben limiti, quello sia chiaro. Il nostro corpo è per esempio un limite, il mondo fisico ha un certo limite, la tridimensionalità ha dei limiti. Però entro questi limiti possiamo realizzare tutto ciò che va in risonanza con la nostra essenza. E quando persone per esempio adesso hanno capito questa è la mia visione o questo voglio raggiungere, questo voglio mettere in pratica. Pensano, hanno capito il meccanismo di percepire la sensazione di ciò che vogliono, però 80-90% durante la giornata stanno dentro nelle emozioni che non le fanno bene, cioè che sono proprio contraproducenti. Allora non funziona. Significa che dobbiamo veramente capire che ogni emozione ci porta in un futuro dove possiamo vivere di nuovo questa emozione. E se abbiamo capito questo, allora il primo passo che secondo noi è da fare è di uscirne in ogni momento quando entriamo in un automatismo, quando per esempio una persona ci dice qualcosa e subito scatta un nostro programma per arrabbiarsi, per star male, per non sentirci al nostro agio, eccetera. Di non cadere dentro e di pensare adesso questo sono io, non c'è un'altra possibilità di uscire, ma di staccarsi, di vederlo da una metaposizione, di svegliarsi, di dire ah, di nuovo sarebbe quest'altro campo che adesso mi fa reagire, di uscirne e di dire subito no, questo è la vecchia persona. E la nuova invece ha scelto di voler vivere un'altra situazione, perciò subito entrare in quest'altra emozione la quale mi porta in questo futuro che ho scelto. In questo processo che ci avete appena descritto, quale funzioni hanno i pensieri e i sentimenti? Quindi citando le vostre parole, il pensiero e le emozioni devono lavorare in un'unica direzione. Come e qual è questa direzione? Come sappiamo oggi ogni persona ha tra 30 e 50 mila pensieri. E se adesso facciamo un po' l'analisi, o appunto anche il spettatore fa un po' l'analisi, ma quanti di questi pensieri veramente corrispondono al passato? Il passato significa sempre ripetere le stesse cose, le stesse emozioni del passato? O corrispondono, o sono pensieri del futuro, delle preoccupazioni del futuro, delle ansie del futuro? O forse sono anche pensieri del presente, ma pensieri che hanno niente da fare con quello che uno vuole veramente realizzare. Si viene fuori normalmente una percentuale del 90, anche il 99%. Gran parte dei pensieri sono automatici, sono pensieri che si ripetono continuamente. E se è vero che noi con i nostri pensieri, con le nostre emozioni creiamo veramente la realtà, continuamente, allora anche ovvio la risposta. Creiamo il nostro futuro come era nel passato, perché ripensiamo sempre le stesse cose. Perciò uno dei principi che noi vogliamo anche trasmettere nel nostro lavoro è proprio di portare di nuovo la persona a sentirsi nel presente, di portare la consapevolezza su ciò che veramente sta succedendo dentro nella nostra testa e anche fuori. E alla fine non sono dopo problemi o sono delle cose negative che vediamo, anche se non ci sentiamo bene, perché alla fine sono delle opportunità. Perché ogni cosa che vediamo, che incontriamo nella nostra vita che non ci piace è come un segnalatore, è un'informazione. Ci dice, guarda, qua stai facendo una cosa. Finché la nostra reazione di nuovo è sopra, questa esperienza è, ma cosa ha fatto? E vado di nuovo dentro in questi pensieri, ripeto di nuovo, rinforzo questo campo. Un atteggiamento che aiuta molto è proprio di prendere la leggere. Diciamo, guarda, guarda, che cacchio ha combinato, ma quanto ero bravo di crearmi questa malattia adesso. E se inizio con questo pensiero, con questo atteggiamento, allora diventa divertente, perché capisco che veramente sono questo creatore e mi creo forse anche queste cose definite negative, che alla fine non sono. E dico, se riesco a crearmi forse anche un tumore, allora riuscirò a crearmi anche la salute totale. E questo vale per tutti gli ambiti della nostra vita. Chiaro, all'inizio è un po' difficile, perché si sa quando siamo dentro in una situazione di conflitto, quando siamo dentro in una situazione forse anche di malattia, dire adesso cambio solo il pensiero positivo, è difficile. Allora forse ci serve anche un po' di elementi da fuori, può essere un'energia, può essere un bel libro, può essere un corso, possono essere persone che mi danno l'energia sufficiente per portarmi su questo livello dove di nuovo riesco a gestire la mia vita in modo autonomo e personale. Se chiedo per esempio a una persona, chi sei? O mi risponde, non lo so, si ha già lavorato tanto su di sé, oppure un'altra persona mi risponde, sono Tiziana, lavoro lì, ho una famiglia. Cioè, tutte cose che fanno parte di questa vita, però in fondo non lo siamo, no? E quando capiamo veramente che in fondo siamo solo consapevolezza, e quando vediamo e capiamo che esiste solo consapevolezza, allora capiamo anche che ogni pensiero e ogni emozione non siamo noi, è solo una scelta. Ovviamente un pensiero sta sempre insieme a un certo emozione, come un certo colore, è un campo che ha una certa informazione. Questa informazione si può percepire, come detto, attraverso un'emozione, pensiero, voce, colore, temperatura, eccetera. Perciò, ovviamente che ogni pensiero sta insieme a una sensazione. Se per esempio dico, ce la faccio, ce la faccio, però in fondo una paura tremenda, non ce la faccio, perché sono due cose che non vanno nella stessa direzione. Anzi, l'emozione è ancora più forte, ancora più profonda, e mi porterà proprio a quella situazione che non voglio. Perciò è importante, quando ci rendiamo conto, vorrei andare in questa direzione, vorrei vivere questa emozione che ho scelto, allora ovviamente anche i pensieri vanno in questa direzione qua. O penso prima, no, che è un pensiero, o, ah no, ho scelto di vivere un'altra situazione, allora è collegato subito prima il pensiero, poi con l'emozione nel quale entro, in questo campo, oppure viceversa, entro nell'emozione e ho subito altri pensieri, pensieri gioiosi, belli, e non più pensieri che non fanno star bene. Quindi la scelta che compio facendo questo ingresso è una scelta consapevole? Cioè tutto questo processo si svolge a livello conscio, o c'è una parte invece più profonda, più nascosta, quindi forse più difficile da modificare? Secondo noi queste emozioni comunque fanno parte del nostro campo energetico, e visto che li abbiamo ripetuti tante volte, è più semplice cadere dentro in questa emozione e non fare quello che ha detto appena Eleonora, di prendere la metaposizione e poi di indirizzarsi verso uno e verso l'altro. E lì, come detto, qualche volta ci serve anche un aiuto di poter, diciamo, portarsi a una situazione di avere la sicurezza che posso veramente scegliere. Ma la libertà sta proprio in questo, di rendersi conto che siamo questi creatori, per primo i creatori del nostro stato d'animo. Io posso scegliere in ogni momento, adesso potrei scegliere essere triste, potrei ricordarmi di un'esperienza mia triste, per esempio della morte di mia madre, e potrei essere molto triste di questa esperienza. O potrei ricordarmi di un'altra cosa, potrei ricordarmi che incontro mia madre spesso nei sogni, che faccio le esperienze eccezionali con lei. Adesso dipende da me, cosa voglio scegliere, come voglio sentirmi adesso. Chi mi chiede, ma quale di queste due sensazioni mi permette di vivere un certo futuro? Quello di sentirmi triste, o quell'altra di sentirmi collegata ancora con lei? E allora lì inizia la scelta, se so anche qual è la mia visione. E spesso il problema non è così realizzare la realtà, lì con un po' di tecnica, con un po' di disciplina non riesce, ma spesso manca ancora capire dove trovo veramente questa mia visione per entrare. Poi c'è un altro aspetto ancora, un aspetto che è da fare di essere collegato continuamente. Se sono collegato, se hai trovato questa risonanza interiore con me, queste domande automaticamente non devo più fare, perché sono, e sono solamente. E so in ogni momento cosa devo fare senza neanche dover pormi una domanda, cosa voglio, perché già sono su questo percorso che è ottimale in questo momento per me e per la realizzazione della mia anima, diciamo, in questa vita fisica. Foma, come foma si potrebbe dire così. In questo tutt'uno, in questo universo, in questa consapevolezza totale, ci sono elementi più piccoli, no? E un elemento più piccolo è il mio campo personale morfico. L'altro possiamo anche chiamare campo morfico collettivo, universale. Ecco, in questo campo morfico ho dentro tutti i miei programmi, no? Tutto quello che ho vissuto in questa vita qua, anche altre vite, tutto quello che penso di questo mondo, tutte le emozioni, eccetera. Cioè tutto quello che è collegato con questo corpo e col nome. E questo si può anche, quando si cambia stato di consapevolezza, sentire, per esempio, come un astro che gira. È proprio un astro che gira e lo senti come voce, proprio in questa altezza. E senti i tuoi programmi, no? E adesso ovviamente sappiamo che una gran parte nostra è questo subconscio che lavora, no? Impariamo qualcosa, ma poi una volta imparato lo facciamo automaticamente. Per esempio per guidare una macchina. All'inizio, no? Ognuno di noi sa quanto bisognava stare attenti. Adesso facciamo anche altre cose. O addirittura facciamo un bel percorso a un certo punto ci svegliamo e diciamo oh mio Dio, come ho fatto per arrivare qua, no? Perché con la mente e con lo spirito eravamo da un'altra parte e non qua. Però un'altra parte nostra ha fatto tutto questo automaticamente. Perciò c'è questa possibilità di mettere l'autopilotaggio e questo abbiamo quasi tutti, quasi tutto il giorno. che fa, e questa è la reazione, per rispondere alla domanda, è proprio una programmazione che scatta automaticamente se non ci svegliamo, non siamo consapevoli per indirizzare, per dire sì, adesso sì, questo qua, o invece cambio programma. E quando riusciamo a cambiare programma definitivamente riusciamo ad essere liberi. Adesso una domanda forse un po' più tecnica. In che cosa consiste la legge di risonanza e di attrazione? Penso in parte abbiamo già risposto che questa legge della risonanza è comunque attiva continuamente. Sì, io le guardo seriamente. Tu mi guarderai dopo molto seriamente. Sì, faccio un sorriso, mi sorridi. E questo penso è la cosa che ognuno può fare l'esperienza. La mattina, se si sveglia bene, esce fuori dalla casa con un sorriso, incontrerà continuamente persone con un sorriso. E viceversa. Perciò questo è importante, tenere presente che quello che succede intorno a me, anche le piccole cose, come mi guarda una persona, cosa mi dice. Non è solo il messaggio che una persona adesso forse è arrabbiato con me e mi dice una cosa, ma ero io anche di attivare questa situazione col mio atteggiamento, col mio modo di guardare, di presentarmi. Se mi sono consapevole di questo qua, allora dico grazie per forse questa informazione che mi dà. E subito vedrò anche che questo forse, normalmente sarebbe venuto fuori nella discussione, cambia. E improvvisamente c'è di nuovo un altro livello di comunicazione. Perciò queste emozioni che portiamo dentro, stato d'animo, le mie emozioni, i miei pensieri, creano quello che è intorno a me, nel piccolo, ma anche nel grande. E questo è anche eccezionale. Quello penso che si vuole anche dire, quando in certi testi si legge, che noi siamo creatori, che siamo Dio. Questo è il principio di libertà, vero e proprio, di renderci conto di questo principio, che possiamo creare una situazione interiore, possiamo scegliere stato d'animo, e perciò avere una risonanza fuori, cosa succede fuori da noi, e così appunto creare anche una situazione per il futuro diverso, forse anche positivo, nel modo come noi lo pensiamo per l'umanità, o per me personalmente, per la mia famiglia, e così via. Il sogno in tutto questo, che parte ha? Il sogno secondo noi è proprio, è al centro di tutto questo, perché da una parte, quello che viviamo di giorno, lo vediamo rispecchiato di notte, sogniamo di notte quello che facciamo durante il giorno. Forse si può anche dire che il laboratorio, dove ci creiamo la realtà, è la prima fase, perché tutto quello che vediamo qua, nel mondo fisico, era prima un'idea, deriva dal mondo psichico, cioè tutto era prima un'immagine, tutto era prima un'idea, e sappiamo da tutti i grandi inventori, scrittori, scienziati, che hanno trovato la loro soluzione, o una nuova idea nel sogno. Perciò ovviamente, è importante dedicarsi anche, in tante culture, il sogno è fondamentale, invece in altri, si dice, era solo un sogno, e invece il sogno, è proprio lo specchio, chiaro, che ci fa vedere dove stiamo, quali sono i nostri pensieri al momento, quali emozioni, in che direzione andiamo, come sarà il nostro futuro, ci fa vedere tanti aspetti nuovi anche, della nostra personalità, però ci offre anche, come piatto forma, di andare in contatto con altre entità, incontrare altre persone, anche persone defunti, e poi, oltre di questo, di uscire attraverso la porta del sogno, verso, ancora una più grande libertà, poi nel viaggio astrale. Si può dire che in fondo, non c'è una coperta, qua in questa vita qua, abbiamo tre coperte sopra, poi nel sogno due, nel viaggio astrale, una molto fine, e in fondo, questo non c'è più. Sicuramente il sogno oggi, viene visto da un punto molto limitativo, da una parte, chi si ricorda dei sogni, non sa dopo come interpretarsi, e questo è anche un po' il nostro lavoro, dove stiamo dedicando adesso un po' di energia, perché abbiamo visto questa necessità, delle persone di nuovo capire, che questa multidimensionalità, della quale si parla oggi nella fisico-quantistica, viviamo ogni giorno e ogni notte, di notte entriamo in questo mondo dei sogni, finché non ho questa consapevolezza, il sogno è una cosa lì, una proiezione mentale. Se con le tecniche giuste, ho sviluppato questa vita, nel sogno, nel sogno, o addirittura attivo un sogno lucido, allora improvvisamente diventa possibile, che quello che ha da fare con la creare la realtà, nel sogno, posso fare tutto, posso volare, posso guarirmi, istantaneamente nel sogno, il mio corpo. e se ho la capacità poi di portare, pian piano, questa esperienza della salute, nel mio corpo fisico, posso attivare anche una guarigione spontanea, del mio corpo, perché, come ha detto, appena Eleonora, prima c'è sempre l'idea, se ho una idea chiara, come la salute, totale, posso portarla dopo, direttamente nel mio corpo. Questo è anche un po' questo progetto, che stiamo adesso realizzando, con questo sito, Comprendere i sogni, dove diamo indicazioni precise, è un corso proprio internet, dove diamo consigli precisi, come ricordarsi dei sogni, primo passo ovviamente, capire i livelli, diverse profondità, diciamo, del sogno, e poi come interpretare questi sogni, e come attivare dopo anche sogni più chiari, più e più affascinanti, per creare la propria realtà, anche attraverso i sogni. Voi, personalmente, vi sentite creatori della vostra realtà? Da un punto di vista sì, da un altro punto di vista no. Nella tridimensionalità, c'è la possibilità, secondo tutto quello che ho sperito fino adesso, perché parlo solo di esperienze, di attirare certe situazioni, molto veloci, molto facili, dipende da che cosa desidero, piccole cose subito, altre cose che hanno bisogno di più energia, durano forse qualche giorno, altri progetti più grandi, forse qualche settimana. Da un altro punto di vista, che è anche esperito, so che tutto quello che farò in questa vita, esiste già. Dipende sempre da che punto di vista si guarda, e dove si sta con la consapevolezza. Io vorrei dire proprio di integrare questo aspetto, che a me fa tanto piacere, anche se mi dovrei trovare in situazioni che non mi piacciono, dove sento che perdo energia. Questo forse anche un po' essere un indicatore per tutti che ascoltano questa intervista, ma come capire cosa mi va bene, cosa non mi va bene. E sono situazioni che mi danno energia, dove il mio livello energetico appunto aumenta, sempre appunto ammettendo che non rubo l'energia a un'altra persona, ma comunque che aumenta per il fatto, per quello che sto facendo, o dove perdo l'energia. E io mi diverto proprio di guardare anche questi momenti, dove sento per un stato d'anima, per un'altra situazione, sento che perdo l'energia. Diciamo, possiamo chiamarlo come elementi negativi. E lì ricordarmi sempre questo principio, sì, ma guarda, cosa ho combinato adesso, che di nuovo perdo energia. E lì proprio mi sento come creatore, perché ho fatto nel passato certe scelte, ho attivato certe energie di pensieri, di emozioni, che questo ha potuto diventare realtà. Sì, appunto, per esempio nel corpo fisico, quando ho un raffreddore, mi chiedo subito, ma cosa ho pensato ieri, l'altro ieri, le ultime settimane? Cosa ho fatto che questo poteva diventare realtà? E subito trovo anche la causa che era appunto nel passato. Grazie, grazie a Delenora, grazie a Paul, da Non Solo Anima TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti